Conoscere il proprio stato di salute anche quando non sussistano evidenti sintomi di malessere è fondamentale per una corretta prevenzione. A volte però eseguire una serie di accertamenti comporta la permanenza di un soggetto presso una struttura sanitaria per più giorni, con la conseguenza che soprattutto per motivi di tempo e di lavoro ognuno di noi omette di eseguire quei controlli medici che, se ripetuti nel tempo, garantiscono una conoscenza del proprio stato di salute e costituiscono sicuramente la migliore medicina, quella preventiva. Madonna della fiducia, con un'esperienza ormai consolidata dagli oltre 3.000 check-up annui effettuati, organizza screening personalizzati mediante i quali, in un solo giorno, è possibile eseguire tutti gli esami necessari per un corretto monitoraggio del proprio benessere. Manager stressati, con poco tempo a disposizione, pazienti con casi di patologie familiari ereditarie, persone che semplicemente hanno il bisogno o il piacere di eseguire quel tagliando che ogni medico consiglia, possono prenotare un check-up personalizzato e, in un giorno solo, sapere ciò che va e che non va nel proprio organismo. Un numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica dedicati. La comodità di un'hostess a disposizione che vi accompagnerà da un esame all'altro per rendere la vostra permanenza la più breve possibile. E soprattutto la guida di uno specialista internista dedicato, che seguirà dal primo all'ultimo momento, il paziente nel suo iter medico diagnostico, tracciandone in conclusione un quadro clinico finale. Niente più tempo perso, svariati appuntamenti e giri da una struttura ad un'altra. A Madonna della fiducia, con una sola telefonata, in un solo giorno potrai eseguire, nel massimo del comfort e della qualità, quel tagliando che ti può salvare la vita. Madonna della fiducia, la clinica privata per tutti. La fiducia, la clinica privata per tutti. La fiducia, la clinica privata per tutti. Grazie a tutti.